Anna Molinari, dietro le quinte di Blue Marine, annuncia che farà l'alta moda. Perché, dove, come e quando? Scusa, perché ho avuto tanto successo nel Pret-a-Porter, che è stata la mia vita, è tutto ciò che io desideravo, che adesso vorrei come sogno trasformare questo sogno nel fare l'alta moda, couture, o a Roma o forse a Parigi. Roma o Parigi. Chi è il tuo modello nell'alta moda, se c'è uno? No, solo me stessa. Io non guardo mai gli altri, come gli altri forse non guardano me, perché io credo che la vera forza di una linea sia la sua identità. Noi invece ti guardiamo, perché tu hai sempre un tanga, è il tuo portafortuna? Sì, ma guarda, lo sapevo che mi facevi questa domanda. Sì, veramente non sapevo di avere la gonna trasparente. È un passepartout, diciamo che portafortuna. Portafortuna. Vedo molte pellicce. Sì, alcune pellicce molto importanti, che queste non saranno acquistate certamente dagli europei o dagli italiani, perché è un momento che sappiamo di grande recessione, però abbiamo clienti con il nostro marchio, che è tanto forte in tutto il mondo, dalla Cina, al Giappone e soprattutto dalla Russia, e dai paesi arabi, che saranno certamente acquistati da loro con grande amore. Certo, le arabi in pellicce al sole. Al sole? A Dubai con la pelliccia. Va bene, grazie. Ciao, grazie a te. Trocca il lupo. Trocca il lupo.